Sono così felice di trovarmi ancora a Firenze in questo maggio musicale fiorentino e in questa occasione c'è una opera fantastica, l'ho fatto già tante volte ma non è stata mai fatta a Firenze, I due Foscari di Giuseppe Verdi un'opera straordinaria, sono Cassio Domingo tra l'altro, vi saluto devo dire che faccio la parte del doge, Francesco Foscari il doge di Venezia e poi c'è questa nuova sala, questo teatro che porta il nome di Zubin Mehta il maestro Mehta per tanti anni, per 50 anni in questo maggio musicale fiorentino anche una compagnia straordinaria che canta la Contarini, Lucrezia Contarini lo canta Maria Fussè, Siri, siamo stati a cantare il Nabucco già qualche anno fa una scoperta, ho visto un grande tenore, Jonathan Tetelman che canta il Jacopo Foscari, mio figlio abbiamo il maestro Carlo Rizzi con una produzione nuova di Grisha Sagaroff veramente è una grande grande opera allora vi aspettiamo, a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti